Capitolo 6 Faceva un freddo insopportabile. Ormai camminavamo da giorni e giorni. Cortes si era messo in testa di arrivare a Tenochtitlana a qualsiasi costo. Dopo aver sbagliato strada più volte, il capitano aveva capito che gli indigeni facevano apposta, dalle indicazioni errate sul percorso da seguire, per arrivare alla grande capitale dei Mexica. E contro il consiglio di tutti, aveva deciso di valicare le montagne tra il Puocateple e l'Iscaciuatl, i due grandi vulcani che vegliano sulla valle della Nawak. Malinali sentiva che la sua ora stava per arrivare, era sfinita, i suoi piedi le erano ormai estrani, non li sentiva più, erano così intirizziti che non le facevano più male nemmeno le piaghe causate dalla rottura delle grandi vesciche che le erano venute camminando con le scarpe. Le aveva rubate a uno schiavo cubano morto durante il viaggio con le scarpe. Non le aveva fatto alcuna impressione, mettersi le scarpe di un morto. Avrebbe fatto qualsiasi cosa pur di scaldarsi un po' i piedi. Ma i suoi piedi non avevano mai usato calzature e, fatti pochi metri, si erano coperti di dolorosissime vesciche. La colonne in marcia non poteva certo fermarsi per lei. E così Malinali aveva dovuto tenere duro, anche quando le vesciche si erano rotte e avevano cominciato a sanguinare, fino a che i piedi gonfi di geloni avevano cessato di farle male. Ormai aveva solo sonno, moltissimo sonno. Una giornata calda, soleggiata e allegra, non riusciva nemmeno più a immaginarla. Cercò di pensare al caldo che sentiva in tutto il corpo nelle belle giornate estive, ma non ci riuscì. Aveva così bisogno di un po' di caldo alla pelle. Chissà perché le vennero in mente le cavallette. L'estate andava sempre a caccia di cavallette nei campi di mais. Si divertiva ad acchiapparle in pieno salto, poi le infilava in un guscio di zucca. Più tardi, nella cucina comunitaria, le tirava fuori e le gettava nell'acqua bollente. La morte delle cavallette era istantanea. A questo punto le sciacquava più volte, finché l'acqua non restava limpida, le cuoceva in un tegame di terracotta e le condiva con succo di limone. Non c'è niente di meglio di una manciata di cavallette da sgranocchiare in una sera d'estate, dopo aver giocato e fatto il bagno nell'acqua fredda del fiume. Malinali desiderò con tutta l'anima essere una cavalletta catturata al caldo sole d'estate e gettata in una pentola d'acqua bollente. Essere calore, essere fuoco anziché un corpo interizzito e dolorante. E se per essere così bisognava morire, ebbene, non le importava. Almeno sarebbe morta a bella calda e il suo spirito sarebbe stato riassorbito dal sole. Si sarebbe fuso con l'astro solare, mentre il suo corpo, destinato alla terra, sarebbe stato un saporito alimento per qualcuno. Le venne in mente che, forse, per rendersi più gradevole al palato degli spagnoli, avrebbe dovuto insaporirsi con un po' d'aglio pestato, la nuova pianta che gli straniere avevano portato con sé dalla loro terra lontana e che consumavano ogni pasto, tanto da conservarne sempre l'odore in bocca e nel sudore. Si sentiva morire dalla voglia. Avrebbe dato qualsiasi cosa per mangiare una cavalletta, ma con quel maledetto freddo rassicura che fosse impossibile trovarne. E il perché le era chiaro. In quel clima ogni essere vivente preferiva starsene sotto terra al coperto e il pensiero di andarsene saltellando qua e là non la sferava nemmeno. Malinari sentiva di non poter più fare nemmeno un passo. Ripensò al viaggio che aveva fatto con la nonna e le sue parole le risuonarono ancora all'orecchio. Il tuo compito è camminare. Camminando diventiamo anche noi delle farfalle capaci di liberarsi in alto e di vedere il mondo così com'è. L'esperienza le aveva insegnato che il camminare rituale produce davvero un distacco dal corpo, un'elevazione spirituale, un'integrazione col tutto. Ciò avviene quando si vince il corpo, quando lo si sconfigge, quando la carne rinuncia a contenere colui che cammina e lo lascia libero di fondersi con il nulla in cui tutto è presente. Sfinita, Malinari chiuse gli occhi per cercare di diventare come sua nonna, ma non ci riuscì. Il corpo la teneva ancora prigioniera. Cortes la stava osservando da lontano. Finalmente si era deciso a concedere una pausa di riposo per aspettare il ritorno della spedizione di Diego de Ordaz, salita su Popocateple per osservare da vicino quel vulcano che, secondo le informazioni in suo possesso, negli ultimi anni l'ha verruttato più volte. Per i conquistatori lo spettacolo di un vulcano in attività era una cosa di tutto nuova che non volevano perdersi per nulla al mondo. Disteso a riposare, Cortes guardava il pennacchio di fumo e cenere che usciva dalla bocca del vulcano. Poi il suo sguardo si posò su Malinari e la osservò con attenzione. Con gli occhi chiusi, accoccolata sotto una coperta che Bernan Diaz del Castiglio le aveva prestato, sembrava piccola e vulnerabile, ma non lo era affatto. Bernan Cortes la trovava davvero ammirevole. Non si lamentava mai, non si lasciava sfuggire nemmeno un gemito. Teneva il passo con tutti gli altri senza protestare. Non si ammalava, non piangeva, non dava mai il minimo fastidio. Gli venne spontaneo paragonarla a sua moglie. Debole e malaticcia, Catalina Juarez non aveva avuto figli e sicuramente se avesse dovuto patire ciò che aveva patito Malinari a quell'ora sarebbe stata sottoterra. Anche Malinari, con la coda dell'occhio osservava Cortes, non aveva voglia di parlare con nessuno, per questo si fingeva addormentata. L'energia non le bastavano nemmeno per chiedere aiuto. Le piaceva guardare il corpo di Cortes, le piacevano la sua muscolatura, la sua forza, il coraggio, l'audacia, il dono del comando. Infinite volte, stando in piedi a riva al mare e meditando sull'eterno ritorno delle onde, aveva desiderato vedere tornare suo padre, o almeno qualcuno che gli somigliasse che potesse proteggerla. Mentre lo guardava, Malinari si domandò se Cortes fosse davvero l'uomo del suo destino, e dovette rispondersi che no, decisamente non lo era. La protezione che desiderava non doveva comportare il suo annientamento come persona. La protezione e la difesa che gli spagnoli dicevano di voler offrire agli indigeni contro i falsi dèi e le pratiche pagane facevano di loro delle creature inermi, li trasformavano in bambini impotenti, incapaci di riconoscere ciò che era bene per loro, i bisognosi della guida di esseri superiori. Se si fosse lasciata proteggere da Cortes, anche lei si sarebbe condannata, con le sue stesse mani, a rimanere per sempre debole e ignorante. In quel momento però era così stanca da non avere più voglia di pensare ad altro che non fosse il sole. Non per niente i suoi antenati dicevano che in principio c'era il fuoco e che dal fuoco era nato il sole e con esso gli uomini. Il sole era fuoco in movimento. Strinse forte gli occhi. Quell'abitudine non le faceva bene. Aveva l'emicrania e l'aria che respirava non era sufficiente. Le girava la testa come quando da bambina la nonna la prendeva per le caviglie e la faceva roteare come i volatori di papantla, i danzatori rituali che ballano sospesi per i piedi e mentre ballano scendono lentamente fino a terra. I ballerini di quell'antica danza sono cinque. Quattro scendono poco a poco verso terra volteggiando e l'ultimo rimane in cima al grande palo per rappresentare il centro di tutte le cose. Prima di terminare la loro discesa i ballerini salutano sempre i quattro punti cardinali e il sole. I quattro che volano rappresentano ciascuno un porto cardinale. Da bambina Marinali le aveva visti spesso ed era felice quando la nonna la faceva vorticare come loro tenendola per i piedi. Poi quando la nonna era stanca lei pirouettava ancora un po' per conto suo con le braccia spallancate finché non le girava la testa e non cadeva a terra ridendo. La nonna le aveva spiegato che ci accadeva perché aveva perduto il suo centro. Nel centro c'è Dio, è il luogo in cui non esiste forma, né suono né movimento. Quando ti gira la testa siediti, non muoverti, rimani in silenzio e ritroverai il nostro Signore nel tuo centro invisibile, quello che ti tiene unita a Lui. Perché tutti noi siamo come perle della collana della creazione, siamo uniti gli uni agli altri e ciascuno occupa il luogo e lo spazio che gli corrispondono. Quando qualcuno tira dalla sua parte più del dovuto, l'ordine dei cieli ne è alterato, la volta celeste si apre e anche la terra si apre. Quando uno si separa dagli altri, non sa più dove dovrebbe stare, non cammina più dove dovrebbe camminare e non muore più dove dovrebbe morire, perché il suo filo si è spezzato. E poiché tutto fa parte del tutto, ogni cosa si ripercuote sul tutto. Per questo Dio si intrettisce quando noi non lo vediamo, quando non lo riconosciamo, quando passiamo la vita a voltargli le spalle. Ma dov'è Dio? Cosa devo fare per vederlo? aveva domandato alla bambina. Vedere l'invisibile non è facile, ma colui grazie al quale noi viviamo è nell'aria che respiriamo, in ogni goccia d'acqua, in ogni corpo, in ogni pietra, in ogni pianta, in ogni animale, in tutte le forme della creazione. Al centro della parte invisibile di ogni cosa c'è Dio. Ogni corpo celeste è unito per il centro, a tutti gli altri, a ciascuno di noi. È come se durante la creazione tutti noi fossimo stati uniti l'uno all'altro e a tutte le cose con un filo d'argento. Vedere l'invisibile negli altri significa riconoscere Dio e loro. Sentire l'acqua nell'aria prima che diventi pioggia è sentire Dio. Non importa quanto siano diversi tra loro i volti che guardi, quanto sia diverso il canto di ciascuno. Dietro i corpi, dietro le parole, c'è sempre il Signore del vicino e dell'insieme. Per questo sono così importanti la rappresentazione, il canto, il movimento, tutte le nostre azioni. Se agiamo in armonia con il nostro centro, cioè in armonia con la divinità, tutto avrà un carattere sacro. Se invece agiamo mentre ci gira la testa, cadremo in terra e verremo lasciati da parte, restando disconnessi da Dio. Tutto gira, anche noi. Ogni essere umano, ogni luna, ogni sole, ogni stella danza torna a un centro. Il movimento degli astri è sacro, è come il nostro. A unirci è lo stesso invisibile. Ma la più importante di tutte le conoscenze che la le aveva trasmesso era forse l'idea di Dio che in ogni rappresentazione del divino, su carto o su pietre, in ogni fiore, in ogni canto, prima ancora della parola che lo nomina e lo pronuncia, Dio è già lì, indipendentemente dalla forma, dal colore o dal suono che si sceglie per rappresentarlo. Mia cara Malinalli, già prima di prendere forma nel corpo che hai, anche tu eri tutt'uno con Dio e lo sarai sempre, anche quando la tua figura sarà scomparsa dalla terra. E ancora, quando morirò, quando me ne andrò fuori dal tempo, per te sarà difficile vedermi, dirmi, percepirmi. Ecco perché voglio darti questa tonanzin di pietra. Ella è nostra madre e tu potrai sempre parlare con lei e chiederle ciò di cui avrai bisogno. Io danzerò nel cielo accanto a lei e insieme noi due veglieremo su di te. Malinalli, prese dal suo fagotto la collana di perle di terracotta che aveva modellato insieme alla nonna e tenendo tra le dita l'immagine di tonanzin, pregò di poter ritrovare il suo centro, chiese alla dea di mettere fine a quelle vertigini che rischiavano di farla impazzire e di farla guarire. Ormai non mancava più molto alla valle della Nawak e lei ci teneva tanto a vederla. Voleva sopravvivere per quello. Espresso questo desiderio, le si chiusero gli occhi e Malinalli si staccò dal suo corpo e divenne pensiero, idea, sogno. Entrò in uno stato in cui niente le impedeva di sentirsi parte di tutto ciò che la circondava. Non ebbe difficoltà a intrecciare i propri pensieri con quelli delle altre schiave e subito si sentì libera come non l'era mai stata. Si vide galleggiare su una stoia di serpenti intrecciati. Sapeva di essere in un'altra realtà, una realtà di sogno, ma in quel sogno sperava di trovare una realtà migliore, più collettiva e meno individualistica. Nel sogno sentiva di far parte di una mente femminile collettiva che stava sognando lo stesso sogno. Un gruppo di donne scalze camminava su un fiume ghiacciato che si era solidificato nel momento esatto in cui la luna vi si era riflessa. Camminando sul ghiaccio le donne si ferivano i piedi e le loro ferite disegnavano mappe stellari. La luce della luna piena si proiettava con forza su di loro che improvvisamente divennero una sola mente e un solo corpo, un'unica donna capace di volare nel vento e di nutrirsi della fede di tutte quelle che anhelavano a liberarsi dall'incubo di sentire, di toccare, di piangere, di amare, di sanguinare, di morire, di avere e di non avere più. Nel corpo di quella grande donna unificata, Malinali si vide attorno dodici lune e appoggiò i piedi sui corni della tredicesima. Con le mani raccolse piaghe e frammenti di dolore le trasformò in rose, poi sentì che la luna sotto i suoi piedi prendeva fuoco e quel fuoco divorava i suoi pensieri. La sua mente era come un lume che crea immagini e quelle immagini le si piantavano nel cuore degli uomini come coltelli di luce, rendendo evidente il vero significato del linguaggio. Quando sentì che la luna ardeva ormai tutta e così lei, Malinali, aprì gli occhi ritrovandoli pieni di lacrime, mentre in cuore le nasceva un presagio di fiori. Riflesso di un riflesso, questo era Malinali. Illuminandole la schiena, la luce della luna proiettava un'ombra allungata che, partendo dal suo corpo, copriva gran parte della distanza fra lei e la pietra del sole del Tempio Maggiore di Tenochtitlan. Uscita verso la mezzanotte, Malinali aveva attraversato silenziosamente la piazza senza dover tradurre e interpretare nulla, senza essere costretta a fingere indifferenza per le divinità dei suoi antenati per non essere accusate di idolatria. Il giorno prima, arrivando a Tenochtitlan, era rimasta affascinata dalla magnificenza della città, quanto se non più degli spagnoli. Il Tempio Maggiore ne occupava il centro geometrico, in quello spazio sacro si rifletteva la visione del cosmo e dei suoi ideatori, e da lì avevano origine i grandi argini orientati verso i quattro punti cardinali. In piedi davanti alla pietra del sole Malinali si trovava nel centro esatto non solo della città, ma del cosmo. Il sole, la luna, lei stessa e la pietra del sole formavano un tutto indivisibile, e in quel momento capì che la pietra era una rappresentazione dell'invisibile. Un cerchio che raffigurava non solo il sole e i venti, forze basilari della creazione, ma soprattutto l'invisibile che sta al centro di ogni cosa. Finalmente Malinali vide l'invisibile, comprese che il tempo è qualcosa di diverso da ciò che aveva sempre immaginato. Lei era abituata a percepire il passare del tempo tramite il moto degli astri, attraverso il cielo, tramite cicli di semine raccolto di vite morte. Anche Tessera l'aiutava a raffigurarsi il tempo. Un bello ipil è la dimostrazione del tempo che qualcuno ha investito nel farlo, nel modo in cui il tempo si intreccia. Con ogni ricamo Malinali regalava agli altri un po' del suo tempo e condivideva con loro la bellezza. Purtroppo, però, da parecchio, non filava e non ricamava più. La vita che conduceva accanto agli spagnoli aveva completamente trasformato la sua concezione del tempo e ormai anche lei lo misurava in giornate di cammino, in giorni di battaglia, il numero di parole tradotte in intrighi e strategie. Il suo tempo correva più veloce che mai e lei non aveva un momento libero per mettersi al centro degli eventi. Era un tempo confuso, nel quale si intracciavano il tempo suo e quello di Cortés, allacciandosi e stringendosi inestricabilmente. Come se secondo l'usanza indigena, con una cerimonia tradizionale, il sacerdote avesse legato insieme i lembi dei loro abiti, per renderli marito e moglie. Quella sensazione la metteva a disagio, essere legata a un'altra persona la faceva sentire meno libera. Ogni volta che voleva andare da una parte, Cortés la trascinava dall'altra. Era un ognuno obbligata la loro, che lei non aveva scelto, ma che sembrava averla assegnata per sempre. Il suo tempo era ormai irrimediabilmente intracciato a quello di Cortés, eppure quella notte, in piedi davanti alla pietra del sole, Malinalli si sentiva equilibrata, restaurata, collocata nel tempo o forse fuori di esso. Anche Montezuma quella notte rifletteva sul tempo, e per la precisione sul suo tempo, su un ciclo che ormai stava volgendo al termine, e come Malinalli anche lui non riusciva a dormire. Uscì dunque sul balcone del palazzo imperiale e vide una donna splendente, tutta vestita di bianco a attraversare la piazza. Il cuore gli balzò in petto. Sembrava proprio C.O.A. Cold, il sesto presagio funesto, quale che appariva di notte nelle vie della capitale piangendo e gridando per la sorte dei suoi figli. Come se ciò non bastasse, udì chiaramente una voce dire «Figli miei, ormai dobbiamo proprio andarcene. Dove vi porterò finché il dolore non possa raggiungervi». Gli venne la pelle d'oca. Il terrore gli rigidi le membra. Cercò in vano di muoversi e di calmarsi, di riprendere il controllo della mente, ma i suoi pensieri erano pieni di immagini e di disgrazia. Chissà perché gli tornò in mente lo strano uccello con in testo uno specchio che qualche tempo prima gli aveva portato i pescatori. Il ritrovamento di quel pennuto era stato l'ultimo di una serie di presagi funesti. Quando aveva guardato nello specchio, l'uccello era scomparso. Cercò di ricordare l'immagine che aveva visto nello specchio, ma al suo posto gli venne in mente un'altra immagine tremendamente dolorosa. Una fitta pioggia cadeva sulla pietra del sole e ogni goccia che colpiva la roccia lo corrodeva, lasciandola assolutamente liscia. Comprendendo che ciò che non ha né segni né misure è la morte, Montezuma era brividì. Il suo tempo era scaduto e lui aveva paura per il futuro dei suoi figli, soprattutto i più piccoli, Tequipspo di nove anni e Aksayaktal di sette. Anche Malinali, per continuare con il gioco degli specchi, temeva per il futuro dei suoi figli, con l'unica differenza che ancora non ne aveva. La notte era magica, piena di luce e di pace, la notte prima della guerra. Malinali fu richiamata sulla terra dal rumore dei pesci che saltavano nell'acqua dei canali tutti intorno alla piazza. Ogni volta che si rituffavano, essi facevano un sonno simile a quello di un sassolino gettato in uno stagno, solo più delicato, regolare e tranquillizzante. È per via della luce che, nelle notte di luna piena, i pesci saltano fuori dall'acqua. La luna, infatti, illumina gli insetti che volano a pelo d'acqua e i pesci saltano su per mangiarseli. Malinali sperava che anche Tlazoelt, la mangiatrice di immondizie, saltasse su all'improvviso per divorare i suoi peccati, che in realtà non erano altro che scontentezza, disgusto e molte altre emozioni contradditorie. Entro dunque nel tempio di Huitzilopochtli, dove era sicura di poterli incontrare. Tlazo Teolt, infatti, non aveva un tempio tutto suo, era una divinità lunare, la dea dell'amore passionale che scatena la lussuria e spinge a infrangere la legge con l'adulterio. Tlazo Teolt era anche la grande madre partoriente, patrona dei parti, della medicina e dei bagni di vapore che lavano e purificano anche al di là del corpo. Una divinità terribile, perché può suscitare la passione e l'appetito sessuale, oppure negarli e provocare malattie venere. Per evitare tutto ciò, ogni volta che si commetta una trasgressione sessuale, bisogna subito confessarla a un sacerdote di Tlazo Teolt, che può ricevere quell'immondizia in nome della dea e imporre una penitenza che va da un semplice digiuno di quattro giorni alla perforazione della lingua con una spina di mangei. Siccome i digiuni andavano osservati nei quattro giorni precedenti alla festa delle città Teteo, le divinità femminili morte di parto e quella data era ormai passata, ma l'inali decise di punirsi con la perforazione della lingua. Senza confessarsi a un sacerdote, ovviamente. Non poteva. Cortes non avrebbe approvato, ma ad altra parte avrebbe approvato nemmeno che si perforasse la lingua. Cosa gli avrebbe detto l'indomani quando il capitano avesse scoperto che non era in grado di parlare? Doveva pur esserci un altro castigo per la sua colpa. Purtroppo però non le veniva in mente niente, si sentiva sporca, peccatrice. Aveva un assoluto bisogno di ripulire la sua anima. Per questo, di nascosto da tutti, aveva approfittato dell'ora notturna per cercare sollievo e purificazione. Gli ultimi avvenimenti la facevano sentire oppressa, fuori di sé, sempre sovraeccitata. Innanzitutto durante il primo incontro tra Montezuma e Cortes era stato proprio lei a fare da interprete e per tutto il tempo aveva guardato l'imperatore dritto negli occhi. Il capo assoluto, il re dei re. Mentre lo faceva le tremavano le gambe. Guardare fisso il viso dell'imperatore era il massimo della trasgressione. Malinali sapeva bene che era proibito e che chiunque alzasse gli occhi in presenza di Montezuma veniva condannato a morte. Eppure lei aveva dovuto farlo. Lo sguardo con cui il re aveva risposto al suo diceva chiaramente che quel modo di comportarsi gli era intollerabile. Eppure, lungi dal mostrarsi irritato, lui le aveva permesso di continuare a tradurre il suo discorso di benvenuto. Malinali le aveva fatto con il massimo rispetto. Trasmettere le parole di Montezuma era un grandissimo onore. Ciò che non avrebbe mai immaginato, però, era che Montezuma sarebbe sceso dal tono per consegnarlo a Cortes e che proprio lei, Malinali, sarebbe stato il tramite di tale passaggio di poteri. E nemmeno avrebbe immaginato che la cosa potesse darle tanto dolore. Era stato molto triste per lei vedere che la sua fede non era niente a confronto di quella di Montezuma. Vedere un grande imperatore, un uomo, che fin da bambino era stato educato alla gestione del potere assoluto, cedere volontariamente il suo regno a un altro uomo, lei aveva profondamente commossa. Era stata testimone della fede profonda di Montezuma e della sua grandezza spirituale, che gli avevano permesso di rinunciare al potere per cederla a un'entità spirituale, quella di questa Calcolt. Sentendo che Montezuma era davvero orgoglioso di essere l'imperatore predestinato ad assistere al ritorno di questa Calcolt, Malinali era rabbrividita da capo a piedi. Solo un uomo spiritualmente trasformato poteva fare una cosa del genere. Assistere al momento in cui Montezuma cedeva al suo regno non a un essere umano, non a un volto, non a un'ambizione individuale, bensì allo spirito incarnato di questa Calcolt era stato di per sé un atto mistico, sacro, e in fondo al suo cuore Malinali pensava che questa Calcolt non poteva non averla apprezzato. Ovunque fosse, anche se non era nel corpo di Cortes, il Dio aveva accolto quel gesto. Anche lei, mentre traduceva il discorso di Montezuma, si era sentita spiritualmente trasformata e aveva agito come una vera mediatrice tra questo e l'altro mondo. La voce l'era uscita forte e chiara dal petto, mentre diceva a Cortes «O nostro Signore, siate il benvenuto. Siete giunto alla vostra terra, al vostro popolo, alla vostra casa, al Messico. Siete venuto a occupare il vostro trono, che io in vostro onore ho tenuto per brevi giorni. Altri signori ormai morti da tempo l'hanno occupato prima di me. I signori Itzcoalt, Montezuma il Vecchio, Axayacat, Tizoc e Auitzotl. Oh, per breve tempo essi hanno custodito per voi e dominato questa vostra città del Messico. Sotto la loro spada, sotto il loro mantello, si rifugiava il popolo. Oh, se uno di quei signori ci sta osservando, con quanto stupore vedrà ciò che io vedo accadere dentro di me, in questo preciso istante. Io sono il residuo, l'unico sopravvissuto dei nostri signori. Nostro Signore, io non sto dormendo, non sto sognando. Con questi occhi vedo il vostro volto e la vostra persona. Da molti giorni ormai vi stavo aspettando, giorni in cui il mio cuore non ha fatto che guardare nella direzione da cui siete giunto. Voi venite dalle nubi e dalle tenebre di un luogo a tutti nascosto. Proprio questo, in verità, è ciò che ci hanno tramandato i grandi re del passato, che voi sareste tornato a regnare su questi regni e a sedervi sul vostro trono e seggio. E ora vedo che ciò che ci è stato tramandato era vero. Che siate dunque il benvenuto. Chissà quali fatiche avete affrontato per giungere fino a noi, per tante remote strade. Ma ora potrete riposarvi. Eccovi la vostra casa, i vostri palazzi. Prendeteli e riposatevi con i vostri capitani e con tutti i compagni che hanno viaggiato insieme a voi. Come unica risposta, un grande silenzio era calato dal cielo. Cortesso non credeva alle proprie orecchie. Senza sparare un colpo se li trovava essere re di quelle terre immense e ricchissime. Ma anche i 4.000 nobili e capi dei Mexica, che per l'occasione indossavano i loro abiti di gala ricchi di pelli, piume e pietre preziose, erano rimasti sballorditi all'udire quelle parole. Poi Cortesso aveva chiesto a Malinale di tradurre la sua risposta. Dì a Montezuma che si sono soli e che non abbia paura, che io lo amo moltissimo e così pure tutti coloro che sono qui con me. Nessuno gli farà del male. Ci ha fatto molto piacere vederlo e conoscerlo. Lo desideravamo da molti giorni e ora il nostro desiderio si è realizzato. A quel punto Montezuma aveva preso Cortesso, ottobraccio e l'aveva condotto a Tenucitlan. Con loro c'era nostro fratello, Quintlahuac, i signori Cacama di Texcoco, Tetezal, principe di Tlacopan, Isquatzin di Tlateococlo e molti altri grandi del regno. La capitale del Messico era grande almeno il doppio di qualsiasi città spagnola. Al vederla Cortesso era rimasto senza parole. Non aveva mai visto niente di simile. Tenucitlan sorgeva in mezzo a una laguna ed era circondata da ampi canali in cui scivolavano centinaia di canoe. Pieno d'ammirazione Cortesso aveva osservato gli specchi d'acqua, la semplice maestosa concezione di un'architettura che sembrava disegnata nelle stelle. Quella città lo commoveva e al tempo stesso gli risvegliava dentro una grande collera per non essere stato capace di immaginarla prima. La contemplazione di quei maestosi edifici lo toccava profondamente, invitandolo ad abbandonarsi, ad abbracciare la città, a bagnarsi nelle sue acque, a vivere nei suoi palazzi. Ma al tempo stesso lo riempiva di un'invidia che lo spingeva a negarla, a desiderare di farla evaporare, di cancellarla dalla faccia della terra. Dentro di lui infriava la battaglia tra rispetto e disprezzo. Man mano che si addentrava in Tenucitlan, colera e ammirazione crescevano sempre di più. L'architettura dei Mexica, oltre a dimostrare l'alto livello culturale raggiunto da quella grande civiltà, suscitava pietà, stupore e rispetto. Quegli edifici possedevano armonia, forza e magnificenza. Cortes e il suo seguito prese l'alloggio nel palazzo di Axaiacatl, padre di Montezuma, un edificio rettangolare a un piano con molti cortili interni e giardini che ospitavano bestie feroci, piante esotiche e le famose boliere in cui l'imperatore amava cacciare gli uccelli con la cerbottana. Cortes guardava tutta a bocca aperta e non appena si fu sistemato mandò a chiamare i malinali e fornicò con lei nella maniera più sfrenata, quasi per celebrare e negare a un tempo il suo trionfo. I suoi gesti tradivano il desiderio di godere, di aggredire al tempo stesso, di accostarsi alla vita contenuta di malinali per contemplarne la morte. La baciò sulla bocca, sui seni, sul ventre, sulle natiche, sul sesso, per soddisfare una bramosia così furiosa, da aprirla quasi in due, da ferirla, da lacerarne le carni. Dopo malinali non vuole guardarlo negli occhi, si alzò, uscì dal palazzo e andò a lavarsi in un canale. Poi aspettò la mezzanotte, senza farsi vedere da nessuno, salì al tempio di Huitzilopochtli. Fece 114 scalini, tutti donfiato, senza fermarsi mai. Aveva fretta di confessarsi e di fare penitenza. Sentiva che senza volerla aveva peccato. Le sensazioni che aveva provato con Cortes non erano normali. Quello che aveva ricevuto nel ventre non era l'amore che fa parte dell'energia rinnovatrice della vita. Malinali sentiva di non meritare di essere trattata così. Non si era mai sentita tanto umiliata in vita sua. Era quello il comportamento degno e rispettoso di un dio? No, di certo. Il peggio è che non poteva andare da Montezuma e dirgli che si era sbagliata. Che gli spagnoli non erano chi credeva a lui. Che non meritavano di governare quella splendida città e che non avrebbero saputo che farsene. I giorni seguenti confermarono i suoi sospetti. Cortes non fece che rubare. Non c'è altra parola per dirlo. Tutto ciò su cui riusciva mettere le mani. I fini lavori, in ore e pietre preziose, furono smontati e distrutti. I più bei tesori delle arti decorative furono smembrati per toglierne i pezzi d'oro. I meravigliosi pennacchi di piume finirono in un angolo e col tempo si disfarono o furono mangiati dalle tarme. Davanti a quella distruzione Malinalli fu presa dal desiderio urgente di salvare, di proteggere, di evitare il peggio. Non sapeva assolutamente come fare, ma improvvisamente sentiva che lei stessa e tutta la cultura in cui era nata e cresciuta erano in pericolo. E forse proprio per questo cominciò ad apprezzare cose cui prima non dava importanza. La sua sensibilità si era come risvegliata e la bellezza e monumentalità di Tenochtitlan la tenevano in uno stato come di innamoramento. Si svegliava al mattino con l'ansia di vedere la città, di percorrerla, di attraversarla a piedi o in canoa, di stare dentro di lei, con lei e per lei. Cercava continuamente l'occasione per aggirarsi a suo piacimento nelle strade. Più di tutto il resto le piaceva il mercato di Tlateotklo. La piazza, immensa e gremita di gente che si scambiava merci e prodotti, ronzava come un gigantesco alveare. Quel ronzio si sentiva già a una lega di distanza. Alcuni dei soldati di Cortese erano stati in molti luoghi del mondo, a Costantinopoli, in Italia, Roma, eppure dicevano che una piazza così ben congegnata e con tanto ordine, misura e piena di gente non l'avevano vista mai. La prima volta che era stata al mercato di Tlateotklo, Malinalli era con Cortese, ma nel ruolo ufficiale di La Lengua non aveva potuto godersi lo spettacolo. I suoi piedi avrebbero voluto fermarsi davanti alle bancarelle di frutta per comprare qualcosa, per mangiare e saporare uno di quei frutti, ma non poteva, doveva seguire i passi del padrone. E così giorno dopo, approfittando del fatto che Cortese aveva una riunione con i suoi capitani, aveva chiesto il permesso di uscire e finalmente aveva potuto visitare il mercato come piaceva a lei, piano piano, in modo da vedere tutto, toccare tutto, assaggiare tutto. Non stava più in sede alla gioia. Aveva scoperto l'esistenza di nuovi uccelli, nuovi frutti e nuove piante. Tutto la seduceva, tutto la rallegrava, tutto stimolava la sua immaginazione. Non la finiva più di fantasticare su cosa avrebbe potuto fare con quelle piume e coi metalli preziosi, sui tessuti che avrebbe potuto tingere con la polvere di cocciniglia, sugli abiti che avrebbe potuto tessere con quelle matasse di cotone. A una bancarella aveva barattato un grano di cacao con una manciata di cavallette e le aveva sgranocchiate di gusto mentre camminava. In quel momento aveva ringraziato gli dèi che le avevano permesso di sopravvivere al freddo dei vulcani, per vedere quella grande città e quel mercato monumentale. Nella piazza passavano di mano i prodotti provenienti dai quattro angoli dell'impero e da tutte le regioni dominate dai di Mexica. I mercanti che percorrevano le vie commerciali della regione con il loro pesante carico convergevano inevitabilmente nel mercato di Tlatteotlo. Sotto gli occhi di Malinalli c'era la dimostrazione del livello di sviluppo commerciale raggiunto dal regno di Montezuma. A un certo punto, però, la ragazza si era bloccata, con la bocca secca e lo stomaco contratto e tutto il suo divertimento si era diluguato. L'odore misto di ciuffi di pelo di coniglio e piume di coescal, di foglie di cipilin, altrimenti dette foglie sante, di uova di tartaruga, di yucca e batata con miele e vaniglia, le aveva fatto tornare alla mente il momento più triste della sua infanzia, il giorno in cui sua madre l'aveva regalato a un mercante di Xigalango. Malinalli era stata messa in vendita come schiava in mezzo a quello stesso miscuglio di odori. Il suo piccolo corpo, bloccato dal terrore, non osava muoversi. I suoi occhi, grandi, acquosi, erano fissi sulla bancarella di fronte, che vendeva coltelli d'ossidiana. Le orecchie avevano sentito quanto frivano per lei alcuni mercanti mai aggiunti al mercato di Xigalango per vendere dei vasi di miele e che erano disposti a spendere molto di più per certe piume di coescal che non era per la sua persona. La cosa le faceva ancora male. Quella parte del suo passato la turbava così tanto che evidentemente aveva voluto cancellarla dalla coscienza per dipingersi in testa a un codice del tutto nuovo, nel quale lei appariva come compratrice e non come un oggetto messo in vendita. Nonostante quei brutti ricordi però, il mercato era rimasto uno dei suoi posti preferiti. Evitava soltanto di avvicinarsi alle bancarelle che vendevano schiavi o di ricollegarsi a quel ricordo. Tlateloclo era il cuore pulsante dell'impero e le sue vene erano le vie commerciali su cui circolavano i prodotti più ricchi e diversi e i tributi raccolti in tutte le province soggiocate dai Mexica. Tutto in un modo e in un altro fluiva verso il centro, verso Tenochtitlan, verso il suo cuore, verso il mercato di Tlateloclo. Col cuore enorme regolava il polso dei fatti, riflettendo nel ritmo in ciascuna delle transazioni che vi si realizzavano. Al mercato Malinalli venne a sapere che il prezzo della tela di cotone e degli huipil era salito perché i tzlacaltechi, da quando si erano alleati con Cortes, avevano rotto un vecchio pato di collaborazione e non pagavano più tributi. Apprese poi dall'indignazione con cui il popolo aveva raccolto la notizia che Montezuma non solo aveva ricevuto Cortes, un gran signore, ma gli aveva permesso di possessarsi di tutti i tesori contenuti nel palazzo di Acatl senza muovere un dito. Cortes e i suoi uomini infatti avevano rubato sia i gioielli degli antichi re sia quelli personali di Montezuma. Il tesoro privato che l'imperatore aveva accumulato durante il suo regno era stato saccheggiato, spariti magnifici oggetti d'arte plumaria ed oro, i pennacchi, i pettorali, i bracciali, gli orecchini da naso, le cavigliere, i piccoli scudi rotondi, le corone, le fasce per i polsi e i campanelli di d'oro per le caviglie. Nel patio del palazzo di Acatl gli spagnoli strappavano le piastre d'oro dai preziosi lavori d'arte plumaria e le fondevano in lingotti. Alla fine della giornata sembrava di trovarsi in un pollaio in cui fossero stati spennati innumerevoli uccelli bregiati. L'aria era piena di piume svolazzanti, orfane di ogni arte, che volavano qua e là insieme ai sogni di coloro che le avevano scelte, accostate, montate. I servi le raccoglievano rispettosamente e il giorno dopo le portavano al mercato, dove quelle piume erano considerate tanto più preziose, in quanto avevano fatto parte di uno dei pennacchi di Montezuma, di suo padre Axay Akatl o di un altro re del passato, e la gente le comprava, riconoscendone il valore. Ma a ogni scambio l'indignazione non faceva che aumentare, come il prezzo dei coltelli e delle punte di freccia d'ossidiana. Al mercato Malinalli poteva toccare con mano l'inquietudine degli orgogliosi Tenotka, che non capivano, che non sapevano spiegarsi come mai l'imperatore Montezuma, il loro gran signore, non riuscisse a tenere a freno la cupidigia per loro che affliggeva gli stranieri. I commenti, le chiacchiere, i pettegolezzi e le esclamazioni indignate salirono poi drammaticamente di tono il giorno della rappresaglia spagnola per la morte di quattro dei loro soldati uccisi da Kuo Popo Katsin, signore de Koyokan, al fine di dimostrare a tutti quanti che gli stranieri non erano dei ma uomini e che in quanto tali potevano morire come tutti loro, solo con meno onore. Quel giorno il prezzo delle frecce di ossidiana, della clave e degli scudi si impennò. I Tenotka si prepararono alla guerra. In quanto cuore, essere vivente, il mercato aveva vita propria, dormiva, si svegliava, parlava, amava, odiava. Se si svegliava di cattivo umore, non si sentiva furioso, volgare, violento. Se invece si svegliava in pace, era allegro, ridanciano, danzante. A volte cambiava umore da un giorno all'altro e a partire dal giorno in cui Cortés imprigionò Montezuma fu travolto da un vortice di venti convulsi. Quando, con una solene cerimonia Montezuma giurò obbedienza a Recarlo, accettando la sua sovranità sulla nazione messicana, il mercato esplose in violente ingiurie e pianse di rabbi e di dolore. Quando Cortés proibì sacrifici umani, sale al tempo di Huitzilopochtli, aggredì i sacerdoti che lo custodivano, colpì con una spranga di ferro la maschera d'oro dell'idolo e lo sostituì con un'immagine della Vergine Maria. Il mercato mostrò tutti i volti dell'indignazione. Le bancarelle che vendevano palline di coppale esaurirono le scorte. Tutti volevano comprare un po' scenso per celebrare un rituale domestico di riparazione. Il mercato trasodava odio, eppure nel giro di qualche giorno ritrovò la tranquillità. Cortés, infatti, per calmare gli animi, autorizzò lo svolgimento della festa di Cozcal, la più importante delle cerimonie che anno dopo anno il papolo mexica dedicava al culto di Huitzilopochtli. Subito il mercato trasse un sospiro di sollievo e si rilassò. Ebbero inizio i preparativi per la festa, il prezzo dell'amaranto, utilizzato per creare le sculture commestibili del dio salì alle stelle, e anche quello delle piume di Colibri, con cui si realizzavano le decorazioni. La divinità solare dei Mexica, Huitzilopochtli, era nata da una piuma posatasi nel ventre della dea Coacrique, sua madre. Per questo, nei suoi festeggiamenti, si impiegavano belle piume. Anche Malinalli era entusiasta di assistere per la prima volta in vita sua a quella grande celebrazione. Era contenta soprattutto che Cortés avesse rigorosamente proibito qualsiasi sacrificio umano per tutta la durata della festa, quindi non ci sarebbero stati spargimenti di sangue. Aveva sentito dire che si trattava di una cerimonia imponente, durante la quale nobili e guerrieri eseguivano davanti al Tempio Maggiore una danza serpeggiante, per caricarsi dell'energia di Coacrique. Dopo molte ore, i ballerini cadevano in una specie di trance, in un'esaltazione dello spirito che li metteva in comunione con le forze generatrici della vita. La danza si ballava dunque sia sulla terra sia in cielo. Il serpente estrisciava, danzava e volava. Malinalli considerava un gran privilegio poter partecipare a quella festa. Era contenta di essere a Tenetitlana, di far parte di quell'immensa città. A volte, tornando dal mercato, non poteva fare meno di pensare a quanto sarebbe stato diverso il suo destino, se invece di essere regalata a un mercante di Chizalango fosse stata destinata al servizio personale di Montezuma. Come le sarebbe piaciuto diventare una delle sue cuoche. Che privilegio è preparare per lui uno dei 300 piatti diversi che ogni giorno gli venivano imbanditi. Avrebbe voluto sedurre il re con la sua arte culinaria, preparargli qualcosa che lui non potesse limitarsi ad assaggiare e a passare ai suoi tanti, un piatto così buono che l'imperatore, conquistato dall'armonia dei sapori, ne avrebbe mangiato tutto. Le sarebbe piaciuto anche diventare una delle artigiane che creavano i suoi gioielli giocando con i metalli e versando l'oro e l'argento per trasformarli in cavigliere, bracciali, orecchini e decorazioni da naso. Anche se a pensarci bene era l'arte più maria e l'onore più alto, ciò a cui avrebbe voluto dedicarsi se avesse trovato lavoro al palazzo imperiale. Che sogno realizzare i mantelli e i pennacchi che il re del re indossava per presiedere le cerimonie più importanti del tempio maggiore. Trasformare le piume e ombre degli dèi in soli capaci di illuminare il sole stesso, il suo signore Huitzilipotli. Malinalli decise che per quell'importante occasione avrebbe richiamato noi pillar speciale con una bella decorazione di piume e si stava appunto dirigendo verso una bancarella di piume preziose quando vide un crocchio di gente circondare un uomo, uno dei tanti corrieri che ogni giorno arrivavano dalla costa con il pesce fresco per la mensa di Montezuma. A voce molto alta l'uomo stava dicendo che erano arrivate altre navi spagnoli in cerca di Cortes. Fu così che Malinalli, prima ancora del diretto interessato, venne a sapere dell'arrivo di Panfilo de Narvaez. De Narvaez capitava in un pessimo momento, giacché la situazione politica era estremamente delicata. Eppure Cortes non aveva alternative, doveva fermarlo a ogni costo, tagliargli la strada, se non voleva essere arrestato e impiccato con la cosa di insurrezione, per aver disobbedito agli ordini di Diego Velasquez, governante di Cuba, che fin dall'inizio aveva voluto affidargli una missione di esplorazione e non di conquista. Prima di allontanarsi dalla città per attaccare Narvaez, Cortes lasciò Tenoncitlan nelle mani di Pedro de Alvarado. Anche Malinalli ricevette l'ordine di prepararsi per la partenza e ne fu disperata. Già troppe volte aveva dovuto lasciare tutto ciò che amava e ripartire da zero per crearsi un mondo tutto nuovo. Già troppe volte aveva perso tutto per avere tutto. Quando era arrivata Tenoncitlan aveva creduto di essere giunta alla fine del suo lungo peregrinare. Aveva pensato di poter finalmente mettere radici, così tranquillamente, senza rumore e senza tumulto, in pace. Non pensava certo che le cose si sarebbero ancora complicati in maniera inimmaginabile. Cortes lasciò dunque Tenoncitlan e si mise in marcia per Cempo Allan, dove si era accampato Narvaez. All'arrivo le informarono che il suo nemico si era abbaricato nel tempo principale della città. Cortes, che conosceva bene la regione, decise di attaccare quella notte stessa per approfittare dell'effetto sorpresa. Un'acquazione tropicale lo costrinse quasi a cambiare strategia, ma poi il capitano decise comunque l'assalto, inatteso e intempestivo come la pioggia. Ottanta dei suoi uomini circondarono il tempio maggiore, mentre il resto dell'armata, con malinalli, cavalli e le provviste, rimaneva accampato poco lontano da Cempo Allan. Per malinalli fu una notte di tormenti. Proprio quel giorno le erano venute le mestruazioni e i cavalli che lo sentivano erano irrequieti con lei. Per lavare la biancheria macchiata di sangue senza farli imbizzarrire, dovette allontanarsi sia dalle bestie sia dagli uomini. Lei pensava che fosse la luna e non il sole a nutrirsi di sangue e le sembrava ovvio che lo facesse con il sangue delle donne perché aveva osservato che le mestruazioni le venivano sempre quando c'era la luna piena. Era stata proprio quella coincidenza a farle comprendere che il ritmo lunare era esattamente uguale a quello del suo corpo. La luce della luna faceva espandere il sangue fino agli spazi più reconniti del corpo. La stessa luce che quella notte avrebbe illuminato il trionfo o la tragedia, la pienezza o la disfatta, l'estasi o la morte. La luce argentata che faceva espandere il mare e che dava un senso a tutti i liquidi del corpo, facendoli cantare un inno sanguinante per inaugurare di nuovo la vita e rigenerarla. La luce della luna era la sua unica amica. Quella notte la luna era avvolta da un manto di nubi grigie eppure Malinalli le offrì ugualmente il suo sangue affinché si schierasse dalla parte di Cortés. Non voleva nemmeno immaginare che ne sarebbe stato di lei se il suo padrone avesse perso la battaglia. A quanto pare la luna l'ascoltò e accettò la sua offerta. Forse, vedendo l'estasi dei suoi fluidi corporali, l'asso notturno decise di ascoltare la sua supplica. In quella notte di maggio Cortés colse di sorpresa le sentinelle di Narvaez e lo sconfisse, pur avendo attaccato con meno di 300 uomini gli 800 soldati del suo avversario. E dopo la battaglia buona parte dei nuovi venuti passò dalla sua parte perché si sparse la voce che Tenochtitlan, capitale dei Mexica, c'era oro per tutti. Purtroppo però Cortés non ebbe il tempo di festeggiare adeguatamente la vittoria. I suoi informatori infatti gli dissero che Tenochtitlan, in seguito a un massacro compiuto da Alvarado nel Tempio Maggiore, era scoppiata la rivolta.